video run.it la partenza di casaluce sono le fasi iniziali emozionali adrenaliniche ma sono in tanti una splendida giornata di sole la voce di gennaro varrella in sottofondo e questa è la passione dei tanti che da sempre fa la differenza nella nostra regione una sinergia di passioni al via di questa seconda edizione del comune casertano